Coplegno è una cooperativa radicata sul territorio con circa 200 impiegati, con un'azienda controllata a Piacenza, come diceva lei, che fa portoncini blindati, un processo in studio di unificazione con un'azienda di Ferrara, 200 persone a Modena, un centinaio a Ferrara, altrettanti a Piacenza, il settore dell'edilizia, finestre, porte blindati, sappiamo come è messo in Italia, lo sbocco naturale ovvio è l'estero, abbiamo attivato vari processi, una filiale in Francia e in Brasile perché i dati economici di crescita del paese e in ultima analisi il processo di rinnovo di tutto il parco abitativo con il governo che spinge per costruire, per dare una casa a tutto il ceto medio fa auspicare una capacità di penetrazione interessante di questo paese sulla massa, sui grandi numeri e quindi... L'internazionalizzazione può servire a contrastare la crisi? L'internazionalizzazione è la soluzione a mio avviso per arginare la crisi perché il mercato italiano abitativo è saturo, è più che saturo mentre invece il mercato mondiale è un bacino decisamente più grande e quindi ovviamente più interessante.